Good morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti! 7.07, mercoledì 24 aprile, che nebbia che c'è signori, avete visto? La nebbia che non è agli irti colli, agli irti palazzi, almeno in questa periferia ovest di Milano, grande nebbia. Adesso poi vediamo tutto un po' più rallentato, un po' più ovattato, va bene, però dai, così va bene, così va bene, non c'è problema e insomma cerchiamo di affrontare la giornata in qualche maniera, nonostante questa nebbia. 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, le temperature oggi dovrebbero salire un attimino in realtà, quindi dovremmo avere un po' meno freddo rispetto a ieri, ma non abituatevi troppo, non fate il cambio armadi il 25 aprile perché dopo il weekend dovrebbe tornare ancora un po' di gelo e freddo, quindi attenzione, ma poi vedremo che insomma ho notizie sui riscaldamenti, sì, si possono accendere nel caso, sappiatelo. Adesso poi vi leggo e vi spiego perché Milano non ha dovuto fare una proga, ma anzi c'è sempre una possibile clausola. L'abbiamo scoperto un po' troppo tardi forse, nei giornali hanno dato notizia ieri, ieri nel pomeriggio, quando ormai la temperatura stava già risalendo, oggi dovrebbe essere un po' più caldina la giornata, ma insomma se c'è bisogno, volendo, si può lavorare anche su quello. Ve l'ho già detto il numero, 331-7853-555, il nostro numero di Whatsapp, è qui pronto per prendere tutto quello che volete raccontarci di oggi, di ieri, di domani, progetti per il 25 aprile, progetti per il weekend, insomma siamo qua come sempre fino alle 9. Avanti con la musica! Che colpa mio, fra quintale e un po' di gente che adesso mi sono perso perché ho cambiato la schermata, ma sono in tanti, comunque sono sempre tanti. Chi è che è? Coez? Ah no, sono in due, Coez e fa quintale, non so tanti, che colpa ne ho? Io ho la colpa di non tenermi mai aperta la pagina delle canzoni quando vanno e proprio mi perdo i titoli. Comunque, allora, 7 e 11 minuti, 24 aprile, domani è il 25 aprile, buon 25 aprile a tutti, e anzi, 3317853555 arriva il whatsapp di Alberto che ci dice buongiorno Cristallini e buongiorno Fabio, buongiorno Alberto, buon weekend lungo, effettivamente è questo che succederà, anche se ricordo che noi, allora, domani non siamo in onda, domani 25 aprile non siamo in onda perché devo andare in corteo, devo andare a vedere un'edicola che apre l'ambrate, ma ne parliamo dopo perché sarà qui ospite con noi al telefono colui, che uno di coloro che ha deciso di fare questa pazzia, ma è una cosa bellissima, un po' ve la racconto dopo, a l'ambrate, a edicola, c'è sarà anche l'edicolante, è una cosa bellissima, Paolo Iabichino, dopo ne parliamo. E quindi domani non posso esserci, cioè domattina devo andare a l'ambrate e nel pomeriggio donare in corteo, vedrete poi su Milano News come tutti gli anni, facciamo la diretta per farvi vedere come, cosa succede durante il corteo del 25 aprile, ma Alberto aggiunge ancora una cosa e pensate, dice Alberto al 3317853555, c'è persino chi torna al lavoro il 2 maggio, chissà di chi sta parlando, chissà Alberto di chi stai parlando, beh complimenti, altro che weekend lungo, qui è una bella, però ci sta, ci sta, una bella vacanza che speriamo sia soleggiata, notizie a proposito riguardanti il meteo attuale sulla città, da quanto capito città abbastanza spaccata a metà, zona ovest, soprattutto sud ovest, ovest, noi siamo appunto zona San Siro, ma già da Sago, sul Naviglio, Bucinasco, così, nella morsa della Nibbia, ok, c'è la Nibbia questa mattina, la nostra Elisa arriva dalle parti di San Donato e diceva sono partite da casa col sole e gli occhiai da sole, quindi pensate voi come siamo ormai divisi, beh ma è San Donato lì, è la sud-est, ormai lì c'è bel tempo, c'è bel tempo, comunque pensate appunto, e questo è uno di quei temi che diciamo spesso quando parliamo di previsione del tempo, di meteorologia, di come le città, una città come Milano soprattutto, crei dei microclimi e dei microcosmi quasi che si differenzia tantissimo da zona a zona, quindi qua da noi c'è ad esempio, poi le cause sono particolari, perché non mi potete dire che a San Donato non ci sono i campi, ci sono anche là, no, intorno ad esempio, però moltamente diverso il terreno, il verde diciamo che c'è da quelle parti, diverso dal verde che c'è da questa parte, che sono dei parchi boschivi come il Bosco in Città, il Parco delle Cave, ma lo stesso Parco di Trenno, grandi distese d'erba che creano umidità e quindi c'è più nebbia ad esempio, ma ci sono anche situazioni contrari, isole di calore nel centro della città o in zone della circomallazione in cui i palazzi non fanno passare il vento e quindi si stagna l'aria lì e quindi si alza la temperatura oppure ci si creano banchi di nebbia o al contrario corridoi in cui l'effetto canyoning viene chiamato proprio nelle città, è studiato dagli urbanisti e anche dai meteorologi che adesso stanno capendo, cercando di comprendere come gestire questa cosa. L'effetto canyoning, vento forte in alcune zone della città quando in altre zone ad esempio non c'è. Insomma, pensate quanto tutto è cambiato rispetto anche solo già a 30-40 anni fa, quando sì le città si espandevano ma non erano così, insomma, così espanse e così urbanizzate da, pensate, pure cambiare il clima. Una cosa invece non cambia che è il traffico e ce lo dice Luce Verde. Bastille, Bastille alle 7 e 19 minuti su Crystal Radio, arriva la retifica o meglio la spiegazione di Alberto al 3317853555 che prima ci raccontava appunto, pensate, c'è persino chi torna al lavoro il 2 maggio e io ho fatto un'allusione al fatto che lui tornasse al lavoro il 2 maggio. Invece, no, scrive, non sono io che torno al 2 maggio, anzi, io sono quello che sostituisce chi torna al 2 maggio. Ecco, quindi no, mi spiace Alberto, già ti vedevo su Lidi a prendere il sole, a bere caipirigna ai bordi del Mar Rosso e invece, niente, mi spiace, niente, sarai qui a bere l'ambrusco sui bordi del Naviglio. Vabbè, dai, non è male, devo dire la verità. Comunque, c'è chi se ne torna al 2 maggio al lavoro, c'è chi invece appunto rimane in città e rimanere in città in questi giorni implica un gran freddo. Lo sapete, lo sappiamo tutti, c'è chi è corso a ripari con stufette, chi ha dato fuoco al mobiglio per scaldarsi in casa, ma la domanda che si fa il Corriere della Sera Milano è che dice il freddo, il ritorno del freddo a Milano. Se possono riaccendere i termosifoni? Ecco le regole. Milano è nella morte del freddo per una corrente d'aria scandinava. Il gelo non fa battere i denti solo all'aperto, ma anche, e io aggiungerei anche soprattutto, all'interno di abitazioni ed uffici. Ma non esiste una proroga reale all'accensione degli impianti. Cioè, in alcune città, andiamo a leggere, ad esempio, Torino, Genova, Bologna, ma anche la più vicina a Buccinasco, ha fatto una delibera dicendo si può prorogare, non spegnete l'8 aprile, spegniamoli più avanti. Milano non ha fatto questa cosa. Perché non l'ha fatta? Non perché voglia tutti nel gelo, ma perché in realtà c'è una parte del regolamento, già dal 2023, che dice che si può fare. Nel senso, vado a leggere. L'ordinanza, risalente ad ottobre 2023, stabilisce che, al di fuori del periodo d'accensione consentito, e senza alcuna ulteriore disposizione da parte dell'autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio, e comunque per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, cioè massimo 7 ore al giorno al posto delle 13 previste nel periodo invernale. Questo vuol dire però che si può, vedete, Milano su questo era già avanti, aveva già capito che non serve fare un'ordinanza ogni volta che la temperatura scende. Nel caso ci sia un gelo pazzesco, un freddo micidiale come in questi giorni, si possono riaccendere i termosifoni. E quindi so che però la cosa non è semplice, perché se a casa avete l'autonomo, girate la manovella, schiacciate un pulsantino e si riparte come se niente fosse. Nei condomini è più difficile, perché magari è uscita la squadra a fare lo spegnimento della centrale termica alcune volte, non è una caldaia semplice, è proprio una centrale termica. In altri casi hanno fatto anche magari la manutenzione già, in altri casi si è successo che magari hanno svuotato l'impianto e poi sono da fare delle manutenzioni straordinarie. E quindi non è facile riaccendere. In più è un costo, perché se dovete chiamare la squadra a riaccendere a casa vostra, schiacciate il pulsantino e la riaccendete e siete a posto, bravi. È l'unica cosa di termotecnica che sappiamo fare nelle nostre case, accendere e spegnere la caldaia. E già su quello, un po' sul termostato già abbiamo dei problemi. Ma in un condominio sicuramente non è per niente semplice. E quindi va così. Nel senso, se potete, se servite la modalità potete riaccendere. Se no, dovete coprirvi. Small Town Boy, Bronx Beat, 7,27 minuti. Qui su Cristiano Radio, poco prima della nostra brevissima pausa pubblicitaria, arriva anche un WhatsApp. Buongiorno da quella di Bergamo. Stamattina per il freddo mi veniva da piangere l'idea di uscire dal letto, immagino. Soluzione? Vestagliona di pari le caffè bollente. Speriamo di sopravvivere. Buongiorno a tutti. Enrico Niggiotti, occhi grandi. Enrico Niggiotti, che stavamo parlando fuori onda, appunto, arriva dal gruppo, da Dami Inici, da quel mondo lì, insomma, magari sconosciuto da alcuni, conosciutissimo da altri. Sono quei personaggi che fanno parte un po' delle nicchie, no? Che uno, se segue un certo mondo, nicchie immense, nicchie di milioni di follower, nicchie di milioni di spettatori, di telespettatori, però che a volte magari uno non conosce minimamente perché non ha mai visto quel programma, non segue su Instagram quelli che parlano di quel programma, non segue su Facebook, non guarda altri programmi che parlano di quel programma, non segue trasmissioni radiofoniche che parlano di quel programma e quindi si perde una parte. È sempre più complicato. Ormai, anche il, io lo dico spesso, ormai essere famosi, essere VIP, non è più come una volta, cioè ormai ci sono i vari VIP, perché chi è VIP per me, per Fabio Ranfi, non lo è, ad esempio, magari per Elisa che c'è in regia o per altri che stanno ascoltando in questo momento, no? Cioè, ci sono dei, ovviamente, di Tom Cruise, va bene, ok? Quelli lì, no, Noel Gallagher, mi viene in mente, no, non so, Liam Gallagher, i fratelli Gallagher degli Oresis, ok? Sono nomi, Madonna, quelli, va bene. Ma anche certi attori, non so, Alessandro Borghi, ormai chi non lo conosce? Tutti lo conoscono, ok? Benissimo. Però ci sono tantissimi altri che non sono micro-influencer, perché non sono gente seguita da 3-4 persone, da 10.000, da 20.000, da 100.000 persone, ma persone 400.000 follower, cose del genere, che però nel mio mondo non intran minoramente, oppure dal mio mondo non vanno nel mondo di qualcun altro. e questo, insomma, un po', dà l'idea anche di quanto è tutto molto sfaccettato, è molto fatto di nicchie e di piccole fettine di torta, sempre più in piccole, ma sempre la torta c'è un po' per tutti, quindi, insomma, in realtà sono tantissimi personaggi, ormai che possiamo definire Vipo, personaggi o personaggi pubblici. Torniamo un po' sul discorso del freddo, perché so che, insomma, molti di voi hanno detto oh, finalmente posso riaccendere. Sì, attenzione, che anzi, anche sul Corriere della Sera lo dice, dice, attenzione, perché è più semplice per abitazioni con la caldaria autonoma, differente la situazione per chi ha un impianto centralizzato. Gli amministratori di condominio, infatti, dicono, e lo dice anche Leonardo Caruso, presidente della sede provinciale milanese dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominali e Immobiliari, dice, dove è che è? Serve cautele e responsabilità. Bisogna capire se effettivamente ci sono delle esigenze che giustificano l'accensione dei caloriferi, ad esempio nel caso in cui ci siano persone anziane all'interno del palazzo, ma soprattutto poi l'amministratorio di condominio deve sentire le richieste dei condomini, poi deve valutare se ricorre o meno alla proroga e quindi al richiamo, magari, dei caldaisti che devono andare a riaccendere la caldaia. Quindi, insomma, come dicevo, è un po' più complicato per i condomini. Ma Lorenzo Tedici, meteorologo del Meteo.it, dice, il freddo ha le ore contate. Infatti, da oggi tornerà il sole e le temperature torneranno a salire con una massima di 16 gradi circa. Però, attenzione, la tregua dura poco perché dal 25 è prevista ancora instabilità. Il capologo Lombardo sarà interessato da 20 di scirocco che causeranno temporali nel weekend. Le temperature, però, resteranno intorno ai 14-16 gradi di massima. Quindi, se si alza, sì, questo è, in questo momento il mio termometro di là da 6 gradi, in questo momento, quindi quello che vedo in regia dice che fuori ci sono 6 gradi, insomma, è. Non è proprio, cioè, meno male che va su 10 gradi, comunque, se arriva a 16 gradi. Quindi, insomma, non è male. Attenzione a questo punto anche su come vi vestite, su come uscite, se mi copro o non mi copro, prendo freddo o non prendo freddo, sudo o non sudo. Insomma, le solite cose che la nonna ci spiegava molto bene, mettete la maglietta sotto, la maglietta da salute, e soprattutto, se correte, attenzione, uè, piscinin, cur ma suda no, ok? Così diceva sempre, corri ma non sudare, e che non so come si faccia, però è difficile. Ah, io l'ho risolto, non ho più corso a un certo punto, ho smesso proprio di correre in generale, ho detto, basta, così non sudo, eh. Lo faccio solo per quello, nonna, lo faccio per non sudare. Non sono una signora nella versione di Giorgia, che voce, ragazzi, Giorgia, qualsiasi cosa canta, la canta da Dio, lo so dire, mamma mia, wow, 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 wow. 7 e 40 minuti, mercoledì 24 aprile, 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp, potete scriverci e raccontarci un po' magari che cosa avete in mente per il 25 aprile, buon 25 aprile a tutti nel frattempo, e soprattutto anche magari cosa volete fare nel weekend, cosa volete raccontarci. Noi andiamo invece un attimino a leggere dal Corriere della Sera a Milano quello che sta succedendo a Palazzo Marino, perché, leggiamo appunto dal Corriere della Sera a Milano, caos in Forza Italia a Milano, per De Chirico il partito pensa a un importante incarico a livello regionale o nazionale, cioè come è successo? Eh sì, perché da venerdì De Chirico ha lasciato il gruppo consigliare di Forza Italia a Palazzo Marino per entrare nel gruppo misto. Ma come, lui era il capogruppo? E invece no, perché Luca Bernardo, l'ex candidato sindaco, è il neocapogruppo, capogruppo e ha detto anche dopo le europee ci saranno altri ingressi in Forza Italia e quindi non si capisce bene. Allora, l'obiettivo sicuramente, come dice quella della Sera, per Forza Italia è quello di non perdere Alessandro De Chirico. Cosa è successo? Si è spaccata Forza Italia. A livello nazionale, Forza Italia con Tajani, ad esempio in primis, sono dalla parte, ma anche Gasparri, ma tanti altri, sono anche a favore invece del De Chirico, anzi volevano tenersi De Chirico all'interno di Forza Italia e invece così non è stato perché la coordinatrice provinciale, penso comunque cittadina, diciamo, sì, coordinamento cittadino, appunto di Cristina Rossello ha invece optato per un cambio alla guida del capogruppo in consiglio comunale dato appunto a Luca Bernardo. De Chirico non l'ha presa benissimo, tra patente dice non capisce, cioè non l'ha presa bene, ha detto, anzi ha detto che aspettava anche che ci fossero altri che invece si dimettessero per lasciare a lui un posto che gli era stato promesso o meglio così, ha detto Bernardo, all'interno di una commissione sui lavori pubblici del comune di Milano, sottocommissione sui lavori pubblici. Però, lui dice, non so di cosa stiamo parlando perché nessuno mi è venuto a dire niente, in più fa, non vi siete accorti forse di una cosa, io sono passato al gruppo misto, quindi ha lasciato Forza Italia, l'ex capogruppo, quindi Alessandro De Chirico è a tutti gli effetti un ex capogruppo, ma anche ex consigliere comunale di Forza Italia, ora consigliere comunale del gruppo misto. Insomma, un po' di confusione che sicuramente non fa bene al partito di Forza Italia, soprattutto a pochi mesi dalle elezioni di giugno, le elezioni europee, dove abbiamo visto, ci sono anche le presentazioni delle varie candidature delle scorsi giorni e quindi, insomma, non è così semplice la situazione. Vedremo di cosa succederà, se ne parlerà sicuramente dopo le elezioni, sicuramente non c'è un posto per De Chirico nella lista dei possibili candidati alle elezioni europee, però si pensa, l'hanno detto alcuni esponenti appunto di Forza Italia, ad un nuovo ruolo per l'ex capogruppo del Comune a livello regionale o nazionale appunto all'interno di Forza Italia. Bene, magari poi cerchiamo di capire direttamente da lui cosa è successo, De Chirico ogni tanto compare all'interno della nostra trasmissione, partecipa, quindi riusciamo a intercettarlo e chiedergli proprio dalla sua viva voce che cosa, che cosa diavolo sia successo qua, perché non si capisce di cosa è successo. Però, insomma, stiamo a vedere dall'altra parte, per adesso anche la maggioranza sta a guardare, così, dicendo, fate Vobis, noi non mettiamo becco, fate, sono cose vostre interne, non vogliamo entrare, comunque, vabbè, sempre, insomma, non ci si annoia mai neanche nella politica locale, comunque, vabbè, andiamo avanti con la musica, che pezzo. E queste erano in Geffel 65 con Blue, arriva anche un WhatsApp che ci ricorda qualcosa, che adesso ve lo faccio anche sentire, caro Alberto, perché ci scrive, di questo brano c'è una divertente versione di Loni di Lernia che dedico a tutti quelli che fanno i prepotenti in auto. Allora, cerchiamo di farlo sentire, potrebbe essere che devo bloccarlo al volo perché non è proprio da 7 e 48 minuti del mattino, però fa più o meno così. E se la porti nella stalla un po' di paglia mangerà La mula se ne frega del muro perché ne teno una tatuna che è la fine del mondo Il padrone della mula se l'ha presa con... Ecco, perché il problema è che questo mulo, 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 che si canta, fate voi, fa rima con qualcosa che è meglio non sentire a quest'ora in radio. Comunque, grazie mille, grazie anche a chi ci scrive su cosa farà invece il 25 aprile. Il 25 aprile pranzo leggero e poi in corteo a Milano 28 gita fuori porta con amici in zona Gaggiano-Morimondo. Ah beh, quindi lì non è... Lì mi sa che non è pranzo leggero però, mi sa che lì, quella zona lì, non si mangia leggero. Il risotto. Cos'è? Risotto? Risotto, buon vino, risotto con l'osso buco? Sì, ci può stare da quelle parti lì, no? Zona Morimondo, secondo me, è quella giusta, è quella giusta. Comunque, vale. Insomma, dai, questa è la nostra mattinata e insomma, anche Leone di Lernia, pensate, il compianto Leone di Lernia, eh, vabbè, chi non se lo ricorda? Chi sa, ma i più giorni magari non lo conoscono effettivamente. Vediamo un attimo, piccolo sondaggio alla regia, allora, Maria ed Elisa in regia, conoscete Leone di Lernia? Fate sì o no con la manina? Un no, l'altra fa un po' TikTok con la testolina, cioè, tipo, l'ho sentito, non sapevo che cantasse anche, sai, quelle robe lì? Ah, l'irriprensibile, quelle robe lì, no? Non sanno chi sono e siamo lì in classe intorno agli anni 2000, più o meno, quindi, insomma, è quella roba lì. Non lo sanno loro, noi invece lo sappiamo bene, insomma, l'abbiamo seguito in tutte le sue scorribane. Pensate, vi racconto un aneddoto particolare, personale, così se vi va, eh, quando lavoravo per una nota, io l'ho lavorato per Tele Lombardia per alcuni anni e facevo anche il cameraman proprio per Tele Lombardia in quel periodo. Un Natale, c'era una punta speciale di Natale, appunto, per fare una festa, una festa in piazza di Natale, una cosa del genere, no? E io facevo il cameraman mobile a spalla, con la telecamera in spalla e andavo in giro per lo studio vestito da Babbo Natale, perché il problema è che entravo nell'inquadratura e allora il regista ebbe questa idea geniale di vestirmi da Babbo Natale, va bene. ospite, c'era anche Leone di Lernia, a un certo punto io mentre stavo riprendendo sento la telecamera tirare da dietro come se qualcuno mi tirasse il cavo della telecamera quasi a richiamarmi, mi giro e c'era un maialino, un porcellino d'India che stava mangiando, smangiucchiando il cavo della mia telecamera. Era il porcellino d'India di Leone di Lernia che si era portato così per farsi compagnia durante la trasmissione. Sono state due ore abbastanza particolari, cosa divertente anche a Latere è che appunto puntata del 25 aprile per motivi organizzativi l'abbiamo registrata tipo al 12 di settembre o una cosa del genere. Cioè a metà settembre abbiamo registrato la puntata che poi sarebbe nata Natale quindi c'era questo clima natalizio a metà settembre in uno studio con tutto addobbato con gli alberi di Natale le palline io vestito a Babbo Natale e il porcellino d'India di Leone di Lernia che mi smangiucchiava il cavo della telecamera. Questo è stato. Rosaline con Alleluia alle 7.54 minuti Rosaline che ricordiamo essere stata la concorrente dell'Armenia all'Eurovision con Snap grande canzone che poi è diventata un successone su TikTok comunque abbiamo puntato anzi Eurovision attenzione che arriva perché maggio è vicino è l'11 maggio finale dell'Eurovision Song Contest lo seguiremo sicuramente poi lunedì dopo vi racconto tutto sull'Eurovision sappiatelo quindi io sarò qua appunto a ricordarvelo fra poco appunto andiamo in pausa adesso una canzone giornale radio e poi torniamo qui con i nostri ospiti parliamo di un'edicola ve l'ho detto parliamo di un'edicola che si apre proprio il 25 aprile a Lambrate ma non è un'edicola normale cioè un'edicola particolare e speciale a fra poco adesso ancora un po' di musica e poi torniamo qui con Paolo Di Abichino e le sue edicola di Lambrate e sua di un gruppo di amici molto molto interessante che bisogna seguire Phil Collins prima di tutto non è un'edicola non è una notizia banale perché ne chiudono tutti i giorni mille e quindi quando se ne apre una è una grande notizia siamo sotto mille edicole ragazzi a Milano ricordo sempre questo dato che insomma è un dato psicologico da un punto di vista forse sì ma anche molto simbolico dall'altra e fa capire anche un po' come vanno le cose in città ma non è un'edicola qualsiasi e ne parliamo infatti qui in diretta diamo il benvenuto ai nostri ospiti Paolo Iabichino e Alessandro Ghidini buongiorno e benvenuti ciao Fabio ciao bentrovati buongiorno a tutti buongiorno a entrambi allora abbiamo detto appunto questa edicola non è un'edicola qualsiasi sarà un'edicola sì ma non solo chi me lo vuole spiegare bene che cosa sarà questa edicola provo io Fabio mi sento in colpa nel senso che purtroppo purtroppo è una notizia il fatto che riapra un'edicola e dico purtroppo perché in realtà non dovrebbe far notizia però nella situazione che tu anticipavi in cui c'è una moria di edicole non solo a Milano ma devo dire in maniera molto importante in tutto il paese per motivi che noi conosciamo la nostra riapertura fa notizia fa notizia per una serie di motivi fa notizia per la progettualità che si porta dietro nel senso che chiaramente rinasce una antica edicola del quartiere di Lambrate che era ed è un presidio vero e proprio un presidio sociale un presidio di comunità noi la riapriamo da insieme a dei Lambratesi doc Michele Lupi Alioscia Bisceglia Martina Pomponio insomma gente che abita il quartiere Lambratesi illustri e insieme a loro io che sono un Lambratese da adozione ho vissuto questo quartiere per un paio d'anni abbiamo deciso insomma di provare a riqualificare questo spazio uno spazio che è stato messo in vendita e che noi abbiamo deciso di comprare e di di riattare non solo vuol dire riqualificarlo dal punto di vista della insomma della manutenzione ma proprio riprogettare completamente allo spazio quindi una sorta di riadattamento è una riqualificazione a tutti gli effetti nel senso che è un progetto di resistenza e con la resistenza devi fare i conti ad ogni angolo perché è un quartiere che deve molto della sua storia appunto alla storia partigiana con le con la con le nostre grandi guerre la nostra però è anche una resistenza culturale cioè è un cercare di arginare il dilagare del digitale riportare la carta negli spazi delle comunità la carta delle riviste dei giornali dei libri della selezione delle notizie e poi anche progettualità culturali quindi reading quindi piste teatrali residenza d'artista e insomma fare in modo che questo progetto dettoni come multicanalità occupando gli spazi del pensiero critico e libero e ci serviva un edicolante e l'abbiamo trovato ed è qui che entra in gioco Alessandro giusto Alessandro è l'edicolante ha superato una serie di casting che neanche X Factor giusto com'è che è andata è stata una selezione durissima portata avanti da Martina che è stata ufficialmente nominata la nostra HR manager ok no è lei che ha curato tutta la parte di selezione poi alla fine abbiamo incontrato Alessandro della figura che è più delle altre capito Alessandro per motivi che ti dirà lui perché ancora non lo sappiamo Alessandro perché capito questi qua non li dia bella è tutto però di alzarsele 6 del mattino per andare a vendere i giornali nessuno aveva voglia e quindi hanno dovuto incastrare te capito credo credo che uno dei motivi sia questo perché effettivamente quando mi hanno pescato io dico sempre mi hanno pescato perché letteralmente è stato così io ho scritto a Paolo quando ho visto il suo post come tante volte ho fatto cercando lavoro io insomma non ho mai avuto un contatto a tempo indeterminato vengo da una storia abbastanza precaria lavorativamente e quindi quando mi hanno detto vieni a far due chiacchiere per noi sei già la persona giusta io ho detto cosa sta succedendo quindi per me è stato è stato proprio così e se hanno scelto me deve essere vero perché continuano a dirlo perché quindi ormai l'hanno confermato l'hanno confermato domani la tiri su tu la saga cinesca quindi è confermato domani la tiriamo su insieme e questa è una cosa che io voglio voglio sempre sottolineare questo è un progetto in cui io sono entrato diciamo nell'ultimo mesetto come Paolo ti ha detto ha detto tutti è un progetto che nasce nasce plurale nasce plurale dal quartiere per il quartiere nel quartiere quindi domani sarà il quartiere a tirar su la saga cinesca di del 25 al 25 aprile e come come abbiamo già anticipato sarà sarà una sorpresa perché la nostra è stata l'intenzione ed è qui qui ancora colpa di Paolo perché è ancora colpa sua di allestire completamente con la costituzione italiana siamo sulle 800 copie quindi voglio dire farà comunque notizie a prescindere questa qui la raccontate bene dopo adesso vi fermo solo un secondo che ascoltiamo un brano e poi torniamo perché voglio capire bene appunto 800 copie della costituzione italiana saranno in vendita giusto? sì ecco allora adesso per me la spiegate prima ci ascoltiamo Max Pezzali e poi torniamo qui con Paolo Iabichino Alessandro Ghidini a parlare dell'edicola di Lambrate appunto l'edicola libera così l'avete chiamata anche il pensiero critico ma è interessante anche per capire perché proprio domani era il giorno giusto con cui inaugurare avete fatto tutto proprio nel minimo dei dettagli avete curato tutto quanto avanti con la musica Max Pezzali Max Pezzali discoteca abbandonata devo dire che mi piace questo pezzo ha un sound che mi piace mi piace mi piace comunque 8 e 17 minuti ancora qui in diretta su Crystal Radio Milano good morning Milano good morning Milano a tutti quanti e soprattutto a chi domani andrà all'inaugurazione dell'edicola di Lambrate che avverrà a che ora a proposito non mi ha dato questa cosa importante dalle 10 alle 13 siamo lì solo la mattina perché poi pomeriggio vorremmo andare in corteo eh beh giustamente quindi tappa obbligata tappa obbligata solo una precisazione in realtà domani non è di inaugurazione noi apriamo le saracinesche per questo per celebrare il 25 aprile e con questa installazione perché alla fine di questo si tratta con questa operazione che vuole celebrare la Costituzione e tutto quello che la Costituzione italiana rappresenta ma noi saremo pronti con l'apertura vera e propria quindi con giornali e riviste in edicola speriamo entro la prima decina di maggio insomma l'obiettivo era di maggio abbiamo avuto un rallentamento burocratico immagino licenze non licenze cose che appunto allungano guarda Alessandro si sta facendo veramente una cultura in questo senso il nostro edicolante però è stato scelto anche per questo infatti domani una cosa interessante è che appunto domani ci saranno però in vendita 800 coppie la costituzione italiana oltretutto avete sottolineato una cosa che inizialmente in vendita non le regalate giusto ed è stata una scelta quella proprio nel senso che spiegatela bene Paolo mi dici contavi ma noi siamo abituati a pensare che la costituzione cioè che la che la democrazia sia un diritto che è assolutamente così Fabio ma la democrazia è anche un dovere nel senso che non possiamo darla per scontata soprattutto di questi tempi e questo è un pensiero che abbiamo avuto devo dire qualche qualche decina di giorni fa qualche quindicina di giorni fa quindi voglio precisare che eravamo fuori dall'affaire scurati per capirci però avevamo pensato insomma di avvicinarci all'apertura dell'edicola con un'operazione che facesse risuonare un po' quello che è lo spirito di questo progetto che è un progetto di indipendenza e di resistenza e quindi abbiamo pensato semplicemente che fosse una buona idea quella di mettere quante più persone possibili a contatto con questo libro noi vendiamo libri infondono e allora abbiamo detto mettiamo un solo libro in vendita quel giorno e costringiamo le persone tra virgolette costringiamo le persone ad acquistarlo è un prezzo tutto sommato accessibile perché abbiamo trovato un buon editore Giunti che esce con una costituzione molto bella copertina rigida molto curata a 5 euro e 90 quindi voglio dire lo puoi anche regalare a Natale tenere per 10 coppie infatti siamo attrezzati anche per fare dei pacchetti regali vero Ale? assoluto abbiamo i sacchettini abbiamo i sacchettini copri prezzo l'autografo dell'edicolante di Lambrate direi che è più di così quello sì quello sì Alessandro cosa sarà per te diventare appunto l'edicolante di Lambrate ma che c'è è una roba insomma io sento il peso della responsabilità lo sento io guarda io posso posso dirti cos'è ora cos'è già ora e l'ho detto a tutti per me questa è un'occasione di entrare in contatto anche con quello che vorrei davvero essere non solo lavorativamente perché comunque questo è un tipo di occasione che mi è capitata che incrocia un po' tutte le anime lavorative io ho fatto il libraio ho studiato lettere però ho fatto anche il giornalista sto facendo il percorso per farlo quindi incrocia un po' tutte le anime ma io sposo appieno il progetto proprio come progetto di comunità come progetto culturale proprio in linea con quello che ho sempre che ho sempre creduto sia l'idea di cultura una cultura che come abbiamo sottolineato noi più volte si allarga tende ad includere è plurale è orizzontale non è un tipo di cultura elitaria non è qualcosa che dall'alto al basso ma qualcosa che sorge sorge dal quartiere anche dalla strada quindi per me questa è un'occasione non lo nego bellissima da un punto di vista lavorativo ma io è un mese che davvero cammino un metro sopra il pavimento perché per me questo davvero è bellissimo bellissimo tutto cioè non saprei com'è altro spiegarlo davvero bene 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 allora dimmi questo è il motivo per cui abbiamo scelto Alessandro perché questo entusiasmo che hai sentito ti corrisponde è come se le due progettualità quella il destino di Alessandro a 28 anni cioè che scrive che legge che vende libri che vende giornali nelle esperienze precedenti che ha fatto anche dell'associazionismo e della scrittura in qualche modo il suo percorso si è incontrato perfettamente con il destino di questa progettualità e quindi da questo incontro è nato questa chimia pazzesca che ci ha permesso di portare Alessandro sicuramente in Edicola siamo talmente così contenti di questa scelta che domani o dopo domani insomma adesso stiamo valutando bene i tempi di rilascio vorremmo far partire anche un crowdfunding a sostegno di Edicola Lambrate perché comunque è un progetto che ha bisogno di quante più persone possibile Fabio cioè non è la sostenibilità di un'edicola oggi che si regga solo e soltanto sulla carta è molto precaria la maggior parte dell'edicole in questo momento vive di plastica di gadget di orpelli di oggetti che insomma hanno poco a che fare con la nostra idea di progetto mi dovrebbe da dire Paolo quegli stessi oggetti che poi sono causa spesso della crisi della carta poi perché insomma quando i giornali paradosso è che l'edicola diventa un hub di Amazon ecco cioè quello quindi non vendi più i libri perché l'ha venuto qualcun altro dall'altra parte dal punto di vista di mercato è proprio un suicidio è come se tu ospitasti il tuo assassino cioè ceniamo insieme e poi dopo cena li uccidi allegramente ecco queste contraddizioni in termini non ci apparterranno abbiamo un'attenzione particolare abbiamo di fronte una scuola accanto una chiesa un circolo alti la fontanella la cabina del telefono cioè è come se fosse una non lo so un piccolo villaggio in miniatura costruito da una lego con tutti gli elementi di comunità hai detto cabina del telefono so che gli hai già messo gli occhi addosso a quella cabina del telefono vero cosa Alessandro cosa ti ha già detto di fare con quella cabina io ho visto il post LinkedIn davvero ha fatto tutto da solo ho visto che facevo una foto quando stavamo pulendo l'edicola a un certo punto è sparito è andato a fare una foto e poi ci siamo trovati questo post LinkedIn che poi vuole anche anche lì è una cosa che di recupero ma anche di valorizzazione perché quante ne vediamo di cabine telefoniche e se possiamo trasformarla non solo in un oggetto diciamo così di contorno che ormai non vediamo neanche più perché non le vediamo neanche più talmente ci siamo abituati qualcosa che ha delle potenzialità non dico artistica perché si può anche creare qualcosa del genere ma una potenzialità a livello di aggregazione perché no perché no questo è anche l'edicola perché l'edicola quando era chiusa non si notava più adesso che c'è l'apertura abbiamo parlato con le persone il solo fatto che abbiamo aperto le serrande e l'abbiamo aperta a vuota alcuni giorni per pulirla per metterla a posto le persone si sono fermate hanno chiesto hanno detto ma quando aprite abbiamo parlato con centinaia di persone in questo periodo e solo fatto che esiste resiste questo secondo me è una definizione perfetta è più di resistenza che in linea col quartiere a me piace finire anche resistenza sul posto che è anche un tipo di resistenza se vogliamo più umile ma per questo anche più nobile più nobile per tanti aspetti chiarissimo bene con la cabina vogliamo farci semplicemente una stazione di trasmissione per dei talent reading cioè dei momenti in cui un autore un'autrice può sedersi nei paraggi dell'edicola con un microfono bluetooth leggere le proprie pagine e gli edicolanter o le edicolanter che sono le persone che faranno parte di questa community vedi io sono l'edicolanter Alessandro è l'edicolante tutto questo è successo ah ok lui non c'ha la R lui è l'edicolante voi siete l'edicolanter perché siete quelli che ok giusto questo è il nostro divertissement no? questo è il mio cioè è un mio modo di interpretare il progetto anche voglio dire onorando il mestiere che faccio e portando all'interno di questo di questo progetto anche un po' della mia scemenza pubblicitaria però invece l'edicola ha un un sottocondo invece di 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 principi e di atteggiamenti serissimi al di là dei miei insomma divertismani e la cabina è un dispositivo la cabina è un dispositivo perché nel momento in cui io ho fatto quella foto e ho fatto quel post una una piattaforma di podcast geolocalizzati come l'opis ci ha contattato è una piattaforma a me abbastanza vicina nel senso ci frequentiamo per mestiere e dice vi compro io le cuffie per gli edicolanti e questi hanno fatto una donazione all'edicola dove ti hanno dato propri dispositivi dispositivi sono soldi infatti qualche migliaio di euro fa capire l'impegno appunto che ormai anche le realtà danno sta succedendo che oggi vado a ritirare una scatola piena di volumi da edizioni di comunità la casa editrice che venne fondata da Adriano Olivetti perché semplicemente vuole sostenere il progetto e ci ha fatto una donazione di libri che saranno per noi a quel punto in vendita però tutto ricavato sarà a disposizione cioè farà cassa non abbiamo le marginalità il 20% il 30% cioè la vendita di quel libro è tutto a favore dell'edicola di Lambrate bene bene dell'edicolante in particolare perché lo stipendio dell'edicolante bisogna ragazzi questo io ci tengo a precisarlo Fabio nel senso nessuno né io né Michele né Alioscia né Martina né Alessandro Tenga che non abbiamo citato ma è un manager culturale che sta dando una grossa mano in termini di progettualità culturali bandi ok cioè nessuno di noi vuole come dire si dice monetizzare da voi giovani voi usate questo termine vero Fabio monetizzare sull'edicola non è un progetto imprenditoriale nel senso classico del termine però è sicuramente un progetto che deve garantire ad Alessandro l'edicolante una sostenibilità economica più che dignitosa ed è per questo che parte il fundraising ed è per questo che tutte le vendite della carta dei libri dei giornali delle riviste che sceglieremo insieme a lui faranno saranno il suo stipendio chiaro chiaro il netto delle spese cioè si si ci sta ci sta come deve essere come deve essere un'impresa quindi come deve essere appunto giustamente poi l'edicola è anche un media io lo sottolineo non è scontato questo infatti non smetterò mai di ringraziare Paolo, Michele, Aglioscia, Alessandro, Martina perché comunque mi mettono dentro a questa realtà garantendomi queste cose che ripeto anche guardando la situazione del mercato del lavoro non sono scontate per niente non sono scontate quindi lo sottolineo scusatemi no è fatto bene poi non siamo dei boy scout quindi voglio dire è chiaro che se arriva il brand che ci risuona che chiude l'edicola per fare un placement come è successo l'altro ieri durante la design week con Campari è stato l'uscita di Urbano quella roba lì la paghi non vogliamo diventare l'edicoletta tipo insomma non voglio fare i nomi ma le abbiamo viste durante la design week si lo detto io lentamente allestite a livello pubblicitario non siamo quel progetto lì chiarissimo il progetto ci deve risuonare e soprattutto deve restituire qualcosa al quartiere altrimenti non vogliamo diventare l'edicola sandwich di nessuno vi devo tagliare mi spiace vi devo chiudere perché adesso dobbiamo andare un po' in pubblicità anche noi a proposito di pubblicità e marketing appunto abbiamo pubblicità che bussa alle porte del nostro studio non della nostra edicola e invece domani alle 10 mi dicevi Paolo giusto dalle 10 dalle 10 all'una più o meno potete andare appunto a Lambrate via conterosso via conterosso ma l'edicola ragazzi l'edicola di Lambrate è quella cioè non è adesso non ce ne sono ci ne saranno altre anche ma è quella cioè l'edicola Lambrate è quella quindi lo sapete benissimo via conterosso grazie mille allora grazie mille Paolo Iabichino grazie mille Alessandro Ghidini Alessandro buon lavoro a che ora ti sveglierai la mattina giusto per a dire la verità ci sarà il cassone di giornali io e te Alessandro coppia di fatto da quando aprirete perché la mattina Crystal Radio Crystal Radio con Good Morning Milano e andate passate poi l'edicola Lambrate a prendervi un po' di carta da leggere che insomma fa sempre bene quindi ci sentiremo allora Alessandro ci sentiremo sarà il mio inviato a Lambrate te lo dico già vi aspetto in edicola benissimo che bello chiudere così allora lascio la chiusura grazie Paolo lascio la chiusura ad Alessandro appunto rimandaci questo invito com'è Paolo e poi vediamo con la musica scusa Alessandro scusa chiudi tu com'è semplice vi aspetto in edicola a domani ciao ragazzi grazie ciao adesso adesso è in giro in Germania ieri c'era anche non credo che c'entri con l'Eurovision o forse sì ma non credo c'è stato un concerto di Mahmood a Berlino io ho dei contatti che seguo su Instagram appunto amanti dell'Italia però che vivono a Berlino tra parentesi di origine russa quindi non c'entrano assolutamente niente con l'Italia che hanno seguito il concerto impazzite completamente cioè impazzite tutti per Mahmood un pubblico scatenato ed era forte che sentire queste canzoni cantate con un forte accento del nord e anche un po' dell'est che cantava appunto non so solo soldi soldi veramente divertente ma soprattutto vedere come comunque il pubblico si fa prendere molto bene dai nostri artisti e mi viene da dire anche meno male nel senso che non esportiamo sempre solo non me ne voglia Pupo Albano Celentano cioè quella roba che sappiamo che già va se tu vai mi è capitato altro aneddoto personale io sono andato un anno a fare delle vacanze in Armenia se non sapete dov'è è a est vicino dopo la Turchia giù di là ok ho fatto una vacanza in Armenia nel momento in cui siamo arrivati alle tre e mezza di notte all'aeroporto siamo usciti abbiamo preso il primo taxi che abbiamo trovato nel momento in cui questo il tassista ha sentito che eravamo italiani ha frenato fermato il taxi ha cominciato a cercare cose dentro il vano porto oggetti e ha tirato fuori una cassetta la messa ed era una cassetta di Celentano e quindi felicissimo di darci il benvenuto in Armenia con la musica di Celentano insomma ecco queste sono le cose che succedono quando si va all'estero in Georgia un'altra volta anche lì mentre andavamo a fare una vacanza in una casa dove in una casa di Airbnb dove stavamo pernottando la padrona di casa ci chiede da dove veniamo italiani corre al pianoforte e si mette a suonare Sapore di Sale così davanti a noi in italiano un po' particolare un Gino Paoli in versione georgiana però insomma ecco questa è un po' la musica che abbiamo esportato negli anni adesso è interessante vedere come appunto Angelina Mango viene osannata a Londra durante la sua performance in presentazione degli Eurovision Song Contest Mahmood a Berlino e tanti tanti altri che magari non pensiamo ma che vanno invece tanto tanto all'estero ci sono veramente tantissimi cantanti italiani che stanno cercando di fare la loro fortuna in Europa un mercato europeo che sempre di più accetta anche finalmente la musica italiana di nuova fattura di nuova produzione e non solo appunto i mostri sacri i classici tra parentesi in tutto questo pensate all'operazione ricchi e poveri cosa ha portato nel senso che già famosi ad esempio in Germania in Belgio molto molto seguiti ricchi e poveri da un certo tipo di pubblico adesso arrivano con una canzone nuova e quindi anche i giovani seguiranno quello tra questi un artista che è un po' complicato da esportare magari ma che invece sta prendendo molto piede soprattutto nel mondo ad esempio in Francia ma anche nei paesi dove appunto c'è una grande correlazione con il mondo del rap e con il mondo magari anche del Nord Africa beh lui è Gali Gali sta facendo ad esempio dei concerti in giro per l'Europa con grande successo di pubblico e riscontro e quindi l'ho nominato e adesso ce lo andiamo ad ascoltare questo è Gali con Casa Mia Gali Casa Mia era questa e anche questa qui sta facendo davvero davvero tanto successo in tutta Europa la canzone di Gali inizia dicendo com'è che è la prima frase il prato è verde più verde sempre più verde e infatti parliamo di prati o meglio parliamo del quali saranno i vantaggi non tagliare l'erba nei parchi di Milano lo leggiamo da Milano Today lo spiega appunto il garante del verde del suolo e degli alberi di Palazzo Marino erba alta nei parchi di Milano vantaggi tanti soprattutto per l'ambiente vantaggi nessuno solo quelli percepiti quindi un po' quella idea che ci siamo fatti tutti di dire ma le allergie mi viene l'allergia non è vero non è per nulla vero non c'entra niente anzi arriva quindi il giudizio del garante del verde del suolo e degli alberi costituito da Alessandro Bianchi Hilda Vagge e Nicola Noè di Milano e conferma l'utilità dell'iniziativa ormai consolidata in molti paesi europei e in via di affermazione in diverse città italiane e quindi anche arrivata al Comune di Milano sugli sfalci ridotti l'abbiamo parlato qualche giorno fa cioè l'idea di lasciare alcuni parchi alcuni in realtà sono alcune aree verdi all'interno dei parchi quindi non sono dei parchi in generale dove l'erba possa crescere un po' più alta in modo da creare l'ecosistema perfetto per far crescere sia la fauna che la flora all'interno di quelle piccole aree a Milano a Milano saranno 54 le aree verdi con appunto lo sfalcio ridotto oddio 54 sono tantissime è solo il 7% di tutto il verde della città quindi non è chissà quanto inizialmente sembrava la notizia è stata data praticamente da domani bisogna andare con caschetto falcette dentro i parchi perché non si potrà passare le liane dovrete usare no non è così invece ci saranno solo delle aree 54 solo il 7% di tutto il verde in città che vedrà appunto questa iniziativa dello sfalcio ridotto quindi meno meno tagli durante l'anno quindi una crescita più alta dell'erba degli arbusti che ci sono al loro interno saranno oasi della biodiversità fondamentalmente questo ci dice Milano Today promuovere l'introduzione di cartelli quindi che informino il cittadino sulle oasi della biodiversità e che spieghino il motivo della riduzione degli sfalci attraverso una comunicazione volta alla promozione della formazione della sensibilizzazione quindi si chiede anche questo e quindi è importante capire bene che cosa significa questo come dire questa iniziativa dello sfalcio ridotto e quindi ci potrà sembrare che magari ci sarà meno attenzione in alcune zone in alcune aree ma sperando appunto nella fissione di cartelli delle spiegazioni della comunicazione del comune capire che invece quelle zone saranno fondamentali cioè lì dove l'erba sarà più alta lì dove ora c'è l'erba lì l'erba sarà più alta e è un bene per tutta la città no non arriveranno più allergie no non staremo male oddio arrivano gli insetti le zanzare le cavallette i moscoli no è solo in piccole aree il 7% di tutto il verde della città di Milano tra parentesi sempre vi faccio questa cosa le zanzare arrivano dai vostri sottovasi sul balcone non arrivano da nessun'altra parte sono i nostri sottovasi sul balcone sono l'acqua che lasciamo stagnare nei balconi nelle ciottoline che mettiamo fuori vicino alle pattumiere quelle cose lì lì nascono le zanzare che poi ci riducono dei colabrodo durante tutta l'estate e non solo perché guardate nonostante il freddo nonostante il gelo qui in studio ieri ho visto già due zanzare che giravano quindi attenzione che stanno arrivando stanno arrivando ebbene sì quindi adesso partire tutta la storia sulle disinfestazioni oddio non le fa le fa non le fa le fa non le fa il comune dov'è dove sono le istituzioni ecco le robe lì insomma andate tranquilli 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano sempre qui in diretta su Crystal Radio Milano grazie a tutti voi che ci avete scritto questa mattina al 331 7853 555 grazie anche a chi mi sta facendo aggiornamenti in tempo reale sulla nebbia o il sole nelle varie zone di Milano a Sago ancora sotto la nebbia a Rozzano invece c'è il sole così mi arrivano queste ultime notizie tanti auguri oggi a chi ha il riscaldamento autonomo che può invece riaccendere i caloriferi se vuole è più complicato invece per chi ha i termosifoni i termosifoni centralizzati e insomma sarà un po' più complicato però insomma ce la potete fare dai tenete duro copritevi dopo di noi senti questa con Ambrogio Curti tanta musica tante storie ve le racconta tutte lui ve le racconta tutte molto bene appuntamento a dopo domani quindi buon 25 aprile a tutti per una repubblica italiana democratica e antifascista che è un po' più complicato Grazie a tutti.